Mie più amiche bentornate nella mia discarica, oggi siamo qui con un nuovissimo episodio di Professor Layton e Richiamo dello Spettro Infatti non sono riuscito a caricarlo venerdì perché stavo male, sto ancora un po' male ma sto molto meglio, ho lotite Però sto meglio, quindi ho detto non voglio concludere la settimana senza aver ricominciato anche con Layton e quindi eccoci qua Allora, continua, vediamo subito dove siamo rimasti perché ovviamente non ricordo niente Dopo che 3 viene negato l'accesso ai verbali, Amy raggiunge Londra per cercare le informazioni, ok? Tornerà sana e salva con i documenti e i verbali di cui Layton ha bisogno? Non so se facciamo tutto il capitolo ma essendo il ritorno è giusto per ridarci un'infarinata Ah, abbiamo il popo di Amy Ho fatto in fretta, adesso devo cercare i documenti che mi ha chiesto il professore, chissà dove tiene i suoi appunti Eh, vediamo, capiamo Ah, devo parlare per forza con lui? Ah, un enigma per noi Ah, Amy, ti stavo cercando Rettore Stone Era in ritardo, perciò temevo che ti fosse accaduto qualcosa Oh, no, in effetti il professor Layton era già nel mezzo di un'indagine quando l'ho raggiunto Così l'ho accompagnato fuori città e ora sono tornata per cercare i documenti che gli servono Capisco, quindi Layton non si trova a Londra al momento? No, mi spiace, siamo partiti senza avvertirla No, no, non c'è problema Doveva comunque prendersi un periodo di vacanza E sono sicuro che quando tornerà scriverà un saggio eccellente Se cerchi l'ufficio di Layton lo troverai a metà del corridoio Controlla il nome sulla porta Grazie A proposito, se non vai troppo di fretta potrai rubare un attimo del tuo tempo? Ma certo, di cosa ha bisogno? Beh, c'è questo enigma che mi tormenta La mia nipotina mi ha sfilato a risolvere ma io non so più dove sbattere la testa Però non posso mollare Cosa penserebbe la piccola, altrimenti che sei un col... Non si preoccupi, rettore, ci penso io Ci pensiamo noi? Volumi ingombranti Oddio, che devo fa? Questa mensole è colma di enciclopedie spesse e pesanti, disposte come vedi qui sotto Tutti i volumi hanno la stessa profondità e entrano perfettamente nello scaffale Indipendentemente da chi consulta lo scaffale alla ricerca di informazioni C'è sempre un volume che nessuno tira fuori per primo Di quale volume si tratta? Scegli il volume e toccalo C'è un volume che nessuno tira mai fuori per primo Vabbè, l'8 perché non puoi tirarlo fuori da solo l'8 Per forza l'8 Così facile? Ah no, sì Era così facile Ma allora lui è un deficiente Vabbè, sì Andiamo nell'ufficio Chi è? Il professore è uscito di corsa ieri, da allora non l'ho più visto Lo so, ma lei chi è? E cosa ci va nel suo ufficio? Potrei farle la stessa domanda Mi chiamo Rosa e mi occupo delle pulizie Oh mi scusi, io sono Emmy Altava, la nuova assistente del professore È un piacere fare la sua conoscenza, Rosa Altrettanto Quindi lei è la nuova assistente del professore? Hmm, mi domando se fosse per questo che il lettore Stone lo stesse cercando Il professore mi ha chiesto di portargli degli appunti Ah, ci vorrebbe un miracolo per trovarli Tenere in ordine l'ufficio non è il suo forte Posso dire di essere intelligente come Leighton Almeno il disordine è lo stesso Cosa le ha detto esattamente? Forse potrei dargli una mano? Beh, mi ha detto di recuperare i suoi appunti e qualche giornale recente Appunti e giornali? D'accordo, vediamo un po' È il cassetto, ti ha detto? Guarderò in tutti i cassetti E io che devo fare? Ecco qui, appunti e giornali, tutti insieme, ottimo Ti hai trovati, ben fatto Mi chiedo proprio come faccio a lavorare in una tale confusione Beh, non l'avevo tutta sta confusione comunque Grazie per il suo aiuto, Rosa Quale aiuto? Sarà meglio che porti tutto al professore Già, si è sicuri che si prenda cura di sé, ok? Va bene, lascia l'università Io manco ci sono andata all'università, quindi sto un passo avanti Ok Adesso che ho gli appunti posso andare a consultare gli archivi di Scott Llyard Con l'aiuto dell'ispettore Groski dovrei trovare tutto ciò che mi serve Speriamo che Groski ci sia Per il momento salterò in sala al mio motorino e andrò a Scott Llyard Ah, ecco qui, Scott Llyard Adesso devo trovare l'ispettore e i documenti che mi servono E andiamo Buonasera Mi scusi, agente, sto cercando l'ispettore Groski Buongiorno Ha detto Groski Mi dispiace, mi è uscito Può lasciare un messaggio se vuole Oh, non c'è? Che disdetta Vado di fretta e dovrei consultare dei documenti nell'archivio Spiacente, signorina Ma non posso aiutarla Sono un agente semplice, le serve l'ispettore Ad ogni modo, di che documenti si tratta? Ho bisogno dei registri di una città chiamata Miss Tellery Miss Tellery? Non è un posto sperduto? Si dice che il commissario locale abbia un bel caratterino In ogni caso, non siamo molto ordinati con il registro delle città fuori dalla nostra giurisdizione Quindi, se a fretta, le consiglio di rivolgersi direttamente all'ispettore Va bene, puoi almeno dirmi dove lo posso trovare? Mi dispiace, non lo so Perché non chiedo un po' in giro? Provi al banco informazioni al primo piano Ma che scatolozze Non c'è mai nessuno Quando ti serve Poi, quando non ti serve, vado in mezzo alle scatole Oh no, quella è Monica? È me? È mia altama? È passato un sacco di tempo l'ultima volta che ci siamo viste Beh, in realtà forse non è passato abbastanza Cosa ci perda un sopricoltatore scoppiando gli arti? Si è persa? A dire il vero mi sto occupando di un'indagine molto importante Oh, davvero? Un'indagine importante Questa scatola Sei venuto a cercare l'ispettore Groski perché non sai dove sbattere la testa, vero? Sì, Monica Questo è quello che... Un momento Sai dove è Groski? Non ho più po' niente Ma da qualche settimana si occupa di un caso in centro Grazie, Monica Mi sei stata di grande aiuto Ciao Ma che è sta maledetta? Per caso, prego, infastiditemi scritto in fronte Ma che fastidio Andiamocene via subito Subito Se Groski è in centro, devo cercarlo lì Ok, il primo passo di un'indagine consiste nel raccogliere informazioni Chiediamo in giro Chiediamo in giro Buonasera No, un enigma Cioè, odio, sono contento, eh Però datemi le info, boss Mi scusi, per caso ho visto un... Beh, tipo muscoloso da queste parti? Muscoloso? Poco tempo fa due tipi a dir poco scombustolati sono scherzati davanti a me Ottimo, dove sono andati? Ehi, calma, quanta fretta, signorina Perché non prende fiato e non si gode i fiori? Cosa? Beh, d'accordo Ma come d'accordo? Se non la gente finirà per farsi male Perché non si prende un po' di tempo per riposare? Ecco, cerchi di risolvere questo enigma Si lascia inebriare dal mistero Va bene Fiori fortunati Ok, si può fare Un giovanotto confida al suo fioraio Che vorrebbe fare tre giochi Strappando uno a uno i petali e altrettanti fiori Vuole cominciare con mamma o non mamma E proseguire con felice e infelice e così così Per poi decidere quale mazzo comprare alla sua bella Un mazzo di fiori, una torta, un anello o un libro Il fioraio prepara un mazzo di fiori Che crede darà al giovanotto un buon risultato Quando strapperà via l'ultimo petalo di ogni fiore Di quale mazzo si tratta? Devono essere sette petali, giusto? Ah, ci sono scritti sotto Vabbè, ciao Allora, con sette dovrebbe funzionare Allora, mamma, non mamma, mamma, non mamma, non mamma, mamma Ok E il primo è andato Felice, infelice, così così Felice, infelice, così così Felice Secondo è anche andato E... Fiori, torta Anello, libro Fiori, torta, anello E io penso sia questo da sette Un bel regalo l'anello No, come no? Odio sbagliare Ti ho lasciato un particolare importante Allora Che crede darà al giovanotto un buon risultato Quando strapperà via l'ultimo petalo di ogni fiore Forse perché poi rimane il mazzo di fiori? Però quale potrebbe essere? Forse quello da sedici? Quello da sedici cosa viene? E chi ci vede fino a là? Allora Mamma, non mamma Mamma, non mamma No, io non vedo assolutamente niente Scusate, eh Mamma, non mamma Mamma, non mamma Mamma, non mamma Mamma, non mamma No Non è nemmeno questo Questo l'avevo provato, vero? Mamma, non mamma Mamma, non mamma Mamma, non mamma Mamma, mamma, mamma Ok Felice Infelice così così Felice, infelice così così Felice, infelice così così Felice, infelice Allora è per forza il 13 Penso di avere la soluzione Ok, perché? Ah, perché ha automaticamente Comprato un mazzo di fiori? Boh, non ho capito niente Vabbè Allora Non ho letto dove erano Vabbè, però mi ha dato le indicazioni Non ho letto dove erano, perdonatemi Per andare dove devo andare? Dove devo andare? Oh, ispettore, oggi sembra più in forma del solito Guarda che muscoli ho Per caso l'ispettore Gloss che è passato di qui Può scommetterci L'ho visto in azione mentre inseguio un lestofante Da che parte è andato? Oh, da quella parte E adesso sarò io a mettermi la sua inseguimento Ma non dovrei rendere la cosa troppo ovvia Dovrei coglierli vicino con noscialance Immagino che lei sia un'amica dell'ispettore Giusto? Sta parlando con la fondatrice presidentessa Nonché unico membro del Clamp Grosky Fan club Abbiamo bisogno di altri membri Almeno uno per ogni muscolo del nostro kid Ehi, lei sembra interessata a Grosky Che ne dice di iscriversi? Oh no, grazie Ok, ora posso proseguire Che imbarazzo Buonasera, tesoro Ciao, sto cercando un poliziotto corpulento Hai visto nessuno che corrisponde alla descrizione? Sì Si stava accapigliendo con un altro maccione E saltavano da una parte all'altra come ballerini Quel bestione col cui lottava l'ispettore Non era certo un peso piuma Oh no Devo sbrigarmi e dargli una mano Tenga duro, ispettore Aspetti un secondo Non ho nemmeno detto dove sono andati Glielo dirò se mi aiuta a risolvere questo enigua È da questa mattina che ci provo Ma che ci provate a fare Se poi non ci riuscite devo venire io Ombrello preferito Il cielo minaccia pioggia Questa ragazza ha bisogno di un ombrello No Cioè, anche Questa ragazza ha bisogno di una mano Per scegliere l'ombrello più adatto A superare in denne il cattivo tempo Ne vorrebbe uno con il manico blu Il bordo rosso E un motivo circolare Quali dei quattro ombrelli che vedi Di soddisfare i seriali della ragazza Allora Manico blu Quindi escludiamo subito la B Bordo rosso O A O D Un motivo circolare Ah, e A Perché aprendo si fa il cerchio Giusto? E A Yes Yes Ben fatto Ora volevo sapere dove si trova l'ispettore Giusto? Vedi quel museo laggiù Hanno lottato e sbraitato fino all'ingresso Poi sono entrati Il museo Afferrato Grazie Museo Buonasera Il curatore del museo adora i gatti A volte risponde Mia colando Ma la cosa non deve scoraggiarlo Che frase di presentazione è? Ovviamente sa parlare come un essere umano Grazie a Dio Ma lo fa solo quando non sta lavorando Ma caccia tutti i clienti Oh ma non gli dica che lo so Le darò un enigma se prometti di tenere la bocca chiusa Mattietti l'enigma è anche la bocca chiusa Perdersi al museo Una notte al museo Oh no Hai perso di vista il gruppo con cui sei al museo Dove sono finiti tutti? E' da tanto che non registro Scusate mi vedo da ridere Eeeh Da una stanza Da una stanza distante Senti la voce della guida Ciò che state vedendo adesso proviene da più lontano di qualsiasi altro pezzo in esposizione del museo Non è opera dell'uomo Ed è di una rarità estrema Ma occasionalmente si può trovare luoghi sparsi per il nostro pianeta In che stanza si trova il gruppo? Cerchi la risposta esatta Non è creato dall'uomo Ed è di una rarità estrema Ma occasionalmente si può trovare luoghi sparsi per il nostro pianeta Allora cosa c'è? Un T-rex? Le ossa di un T-rex? Cosa è questa? Una sala tipo spaziale? Giraffe Varie ed eventuali Pesci Se penso siano piante E questo? Non capisco cosa sia quello Chiedo un aiuto Non so dove sbattere la cavoccia Qual è il posto più lontano da quello dove sei ora? Sappi che non troverai la risposta guardandoti i piedi Cerca di non riflettere in maniera limitata Allarga le tue vedute Senza porti alcun limite Qual è il luogo più remoto che ti viene in mente? L'Australia Non lo so L'oggetto descritto dalla guida è qualcosa che è caduto dal cielo Bruciando durante la discesa Ah lo spazio è il luogo L'Australia Ah qui c'è un meteorite? Quel senso? Vediamo come procedere Non capita assolutamente niente Sei una vera stella Il gruppo era nella sala a tema spaziale La guida stava descrivendo loro Un meteorite Pezzo pregiato della raccolta del museo Allora Do sta sto pregno qua? Chi è questo? Mi scusi signore Per caso ha visto un pettoruto ispettore Passare da queste parti? Miau Ma lei Lei parla come un gatto? Oh ok Non c'è problema Amo i gatti Ciao piccolina Hai visto un poliziottore? Miau 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 Pur Come dici gattino? Groski ha distrutto tutto E poi se ne è andato Miau Grazie Michio Vado a Scott Layard Pur No questo episodio è proprio caotico Grazie ancora Michio No non ce la possiamo fare E poi lei lo capisce pure E quello secondo me è la cosa più preoccupante Oh Groski sta combattendo contro un altro maccione Svengo Afferratemi No Si afferli da sola Scusi Un po' fermo Di questo pazzo Non lo troverò mai Eh? Attenzione Uuuuh Che è successo? Brascia muscolosa Ma non ha i capelli o ha una bussa in testa? Cioè non ha la faccia o ha una bussa in testa? Grande Amy Fatti valere Beh Fammi sapere se hai altre domande Che piacere rivederla Ispettore Groski Ehi Avrei dovuto immaginarlo Mh Amy Ero da un sacco che non ti vedevo Stavo iniziando a preoccuparmi Come va? Non c'è male Ispettore E lei? Ma è stato bello Mello Ma è stato meglio Riesco a fare le flessioni Con tre marioli Sulla schiena Allora Cosa ti serve? Ho bisogno del suo aiuto A Mistelleri Stanno succedendo Delle cose strane Mistelleri? C'è ancora gente Che abita laggiù? Bene Raccontami tutto La città viene assalita Da un mostro misterioso Si pensa che gli attacchi Siano collegati Alla morte Di un celebre uomo del posto Quindi speravo di raccogliere Qualche informazioni Sul suo decesso Ma tu cosa c'entri? Non volevi mettere la testa a posto E concentrati sulle tue ricerche Comunque Siamo un caso interessante Se hai bisogno che immobilizzi qualcuno Basta chiedere Sì Per il momento Dirò accesso a tutti i documenti Di cui hai bisogno Grazie ispettore Gli archivi sono dentro Scendendo quelle scale Prendiamo sti maledetti documenti Subito Questo è l'archivio Se abbiamo quello che cerchi Lo troverai qui Wow Potrebbe volerci un bel po' di tempo Per trovare i documenti Che mi servono Magari no Troverò qualcuno Che ci dia una mano Ah ecco Shalmy Io ho tipo tempismo Chi è? Ma come chi è? E qua non si sa Chi è Shalmy No Questo è l'ispettore Shalmy E un mio collega E questo è il suo aiutante Barton E chi sarebbero? Due giocolieri Cosa ci fa una civile Degli archivi Di Scotty Yard Shalmy Questa è Amy Una mia amica Ha bisogno di un aiuto Con un caso A cui sto lavorando Mi chiamo Amy Altava Mi fa piacere Incontrare l'ispettore Grazie mille Per il suo aiuto Oh me l'ero quasi dimenticata Avrei anche un rullino Da sviluppare Posso farlo qui? Ma certo Vuole anche un massaggio Ehi Barton Aiuta la signorina Agente Barton Signorina Grazie Barton Mi servirebbe Che tu facessi sviluppare Questo rullino Seduta stante Seduta stante? E' tipo di rullino? Beh si mi racconta Non mi fa di valere Spero che Barton Comperi qualche guaio Iniziamo a esaminare Questi registri Shalmy Tu inizierai Quello scaffale Ricevuto Cosa stiamo cercando Esattamente I registri Non ce l'ho più I registri Di Mistelary Grazie per l'aiuto Amico mio Amy Tu inizierai Quello scaffale laggiù No Io inizio Da questo scaffale E me ne vado Allora amici Direi che per questo episodio E' tutto Non abbiamo fatto molto Ma è il primo episodio Dalla ripresa Quindi Andiamo con molta calma E poi è stato Particolarmente caotico Vi chiedo scusa Ma mi sono divertito Troppo per nessun motivo Detto ciò Io vi ringrazio Di aver visto il video Mi do di iscrivervi Se non siete iscritti Commentare Lasciate like Fate quello di cuore Perché è casa vostra E la prossima volta Cerco di essere più serio Ma se ormai mi conoscete Sapete che Poi è possibile E niente Ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.